Ciao ragazzi e benvenuti al parchiatto del tagliagole, oggi ragazzi presentazione dell'RDF Reduced Drag Factor disegnato dalla nostra Alessandra De Santis che andiamo a vedere insieme Alessandra De Santis che andiamo a vedere insieme Alessandra De Santis Ragazzi House 10A che ha tenuto bene, ha tenuto bene Adesso gli diamo una riaffilatina però per quello che ha tagliato anche il canapone due volte ragazzi Tra l'altro due volte con taglio abbastanza netto Ragazzi io sono soddisfatto, adesso riaffilatina e vi faccio vedere come torna subito un rasoietto Ragazzi coltello riaffilato, due passatine sulle bacchette e stro Ragazzi Rasoio in un secondo, ma proprio in un secondo ragazzi Bacchettine solamente le bianche ragazzi, non le grigie, solamente le bianche È tornato a rasoio veramente in un secondo Ragazzi House 10 che a me piace di brutto come acciaio Quindi un coltello che secondo me per il prezzo ragazzi e soprattutto per l'acciaio è un coltello da avere assolutamente Eccoci qui ragazzi pronti alla presentazione di questo Cubi detto all'americana o Cubay Detto alla nostrana, diciamolo alla nostrana Cubay RDF Reduce Drag Factor Disegnato dalla nostra designer preferita Alessandra De Santis che saluto Ciao Alessandra Ragazzi vi faccio vedere un attimo la scatolina Made in Cina ma questo lo sapete Ma a voi interessa il coltello che andiamo a vedere subito ragazzi Prima cosa che vi dico è che non mi ricordo assolutamente se c'erano i sali dentro Nella foga di prenderlo fuori, giocarci, vederlo ragazzi Non mi ricordo se c'era dentro l'antiumidità Pazienza Pazienza, pazienza C'è un po' di vento, mettiamo via Ok, vi faccio vedere anche il foglietto della Cubay Eccolo qui, dietro abbiamo Tutte le loro indicazioni Anche il QR code Pigliatevi sto QR code E andate a vedere come si pronuncia Cubay Poi me lo dite Noi ci gustiamo il coltello Prima cosa di un coltello chiudibile ragazzi La centratura della lama La centratura della lama Adesso stiamo 20 minuti Con sta centratura ragazzi Perché la centratura È una delle cose che si guarda per primo su un chiudibile E qui siamo alla perfezione Ragazzi è centrato da paura Da paura Poi lo aprite Ed è un fulmine Movimento governato da cuscinetti a sfera in ceramica Ragazzi Tanta roba Tanta roba Davvero Perché arrivano dei coltelli Di case blasonate ragazzi Che sono centrati come li centrerei io ragazzi Roba imbarazzante Roba imbarazzante Pensando che sono coltelli che costano Fior fior di dollaroni Qui ragazzi possiamo dire Quello che volete di made in Cina Però Qua siamo alla centratura perfetta Tanta roba Apertura Un fulmine Ciao proprio Acciaio della lama Ma il classico 8 cr13 No neanche per sogno Non è un acciaio economico È un house 10 Parliamo di un ottimo acciaio inox Un acciaio inox Ottima resistenza alla corrosione Io l'ho preso con la maniera Ha tantissime combinazioni di colore Ragazzi Io l'ho preso con la maniera Perché mi piaceva così Ma la copertura Sono un vezzo estetico L'house 10 è un ottimo acciaio Che tiene bene la corrosione ragazzi Quindi ottima ottima resistenza alla corrosione Ragazzi Filo del coltello Perché Com'è il filo Il filo è spettacolare Arriva dalla casa Affilato da paura Da paura ragazzi Da paura Perché avete un filo Affilato bene Un filo che quando arriva il coltello E lo provate Taglia bene È un rasoio E in mano Subito appena lo prendete Centrato perfetto Si apre fluido Taglia come un rasoio Ragazzi Alla grandissima Alla grandissima Assemblato Realizzato bene Complimenti Complimenti Parliamo del Made in Cina Ma ragazzi Qui c'è davvero da fare I complimenti Vi do due misure del coltello Il coltello Nella sua interezza Misura 18.6 Con questa lama Di 7.9 Allora ragazzi Per chi si ricorda I design di Alessandra I coltelli di Alessandra Sempre prodotto da Cubei c'era il 7.62 Vi ricorda qualcosa? Certo ragazzi Perché questa è la sua versione Pieghevole Il 7.62 Era il fisso scheletrato Ragazzi Questa è la sua versione Pieghevole Ragazzi Bello bello Se vi piace Se vi piaceva Il 7.62 Questo non potete Assolutamente Non averlo ragazzi Perché è veramente bellissimo Dicevamo 18.6 La misura Totale Del coltello 7.9 Di lama E spessore Di 3 Millimetri Ottimo Sul taglio Una bella Lametta Da taglio Coltello Con guancette In G10 Nere La mia versione Poi ci sono di vari colori Anche camouflage Se le volete Interno Cartelle In acciaio Ragazzi Perché non avete Il coltello Che se prendete in mano Si deforma È un bel coltello Robusto Altra cosa importante Dei design Di Alessandra Eccolo lì Il suo loghino Ragazzi È come stanno in mano Come stanno in mano Vi dico questa cosa in anteprima Questo weekend Qui al rifugio Mi sono provato Due fissi di Alessandra Ragazzi Paura Li vedrete a breve Non chiedetemi nulla Li ho provati Mi hanno fatto godere In mano Una goduria incredibile E anche questo coltello In mano Vi dà una sicurezza Nell'uso Davvero Tanta roba Tanta tanta roba Ragazzi Tanta roba Visto che appunto Il canale Dà anche Un'ottima Ottima Ottima Importanza Ai neofiti Perché ovviamente Si parte tutti Da neofiti Ragazzi C'è poco da dire Vi faccio un piccolo quiz Ok Chi lo sa già Ovviamente Passi oltre Ma Piccolo quiz Ragazzi Come si chiude Sto coltello Perché non vedo Il back lock Non vedo Il thread lock Non vedo La barra del frame Non vedo La barra del liner Non è un assist lock Come lo chiudo Ragazzi È un Button lock C'ha il bottoncino Premete E la lama Si sgancia Ragazzi Il problema È che crea Dipendenza Quando iniziate a giocarci Poi non smettete più Crea Veramente Veramente Dipendenza Apertura del coltello Ragazzi È un ottimo flipper Col flipper Che è l'apertura Con cui lo apro Più spesso Che uso di più Io Su questo tipo Di coltelli Ragazzi È una figata Cioè Veramente Scattantissimo Cuscinetti A sfera In ceramica Ragazzi Non parliamo Di cuscinetti In acciaio Arrugginito In ferraccio Arrugginito Ma di cuscinetti A sfera In ceramica Il movimento È super scattante Avete anche Il vostro foro Se non volete Fare i numeri Da circo Potete aprirlo Tranquillamente Col vostro pollicione Si apre Proprio Tranquillamente Ragazzi Viaggia di brutto Oppure Se volete fare Gli sboroni Potete fare così E aprirlo Da sotto Con il colpo Di medio Al bardamè Se non lo aprite Col colpo Di medio Vi prendono Per le orecchie E vi buttano fuori Senza darvi Nemmeno Una birretta Da bere Ragazzi Coltello Che in mano Sta bene Un coltello Da provare Sicuramente Adesso andremo A testarlo A provarlo Un po Un coltello Che in mano Di da subito Una bella sicurezza Si sente Bello Preciso In mano Intanto Sta tuonando Speriamo Che mi faccia Finire Di fare La recensione Ragazzi Clip La clip È reversibile Su ambo i lati E abbiamo Il nostro Designer Preferito Eccola La nostra Designer Preferita Attenzione Hydra Design Alessandra De Santis Potete montarla Di qua O di là Ragazzi Che vi posso dire È un coltello Che secondo me Se volete provare Un coltello robusto Con un ottimo acciaio Cuscinetti a sfera In ceramica Un button lock Per provare Anche questi button lock Ragazzi Secondo me È un coltello Che dovete Assolutamente Avere Assolutamente Provare Anche perché Secondo me Ragazzi È veramente Un bel Coltello Andiamo alle conclusioni Finali Cubei Cubei Rdf Ragazzi Disegnato La nostra Designer Preferita Alessandra De Santis Ragazzi Vi faccio vedere Il tagliente Di questo coltello Di fabbrica Di fabbrica Ragazzi Di fabbrica Tagliente Da paura Di fabbrica Tantissima roba Complimenti Per l'affilatura Che Ragazzi Secondo me È un fattore Fondamentale Quando vi arriva Un coltello nuovo Ragazzi Pieghevole Robusto Un pieghevole Ispirato Ovviamente Sulle linee Del 7.62 Fisso Di Alessandra Un chiudibile Che io Vi posso Tranquillamente Consigliare Di provare Per i materiali Costruttivi Per la meccanica E per provare Ragazzi Se non li avete mai provati Il vostro primo Battlelock Ragazzi Dall'Rdf Disegnato Da Alessandra De Santis Per la Cubei Dal parchetto Del tagliagola Tutto Buona giornata E ciao